Ciao a tutti ragazzi ecco qui ritornato qui con questo nuovo video diverso dal solito infatti state vedendo un gameplay di sottofondo che ho fatto su rally berlino urbano su vrc un po' diverso dal solito perché volevo parlarvi un po' della mia situazione sul canale della mia assenza intanto vi dico subito che ho avuto molti molti problemi di tempo quindi per questo non vi ho portato video queste due settimane che prenderò anche con playful bet giovedì o venerdì non preoccupatevi parliamo un po' di questo breve video della mia situazione sul canale infatti la serie su playful bet sarà probabilmente l'ultima serie del mio canale perché come avete sentito recentemente sono state aggiunte la modalità restinzione che purtroppo per me mi penalizza perché appunto trattando un sito di scommesse adesso youtube è praticamente una piattaforma diciamo per bambini sta appunto sviluppando in questa maniera qui infatti nelle tendenze spesso e volentieri vedete video per bambini io trattando scommesse magari non è un argomento che a tutti interessa ma comunque ho anch'io il mio pubblico ho la mia fan base quindi un po' anzi molto mi dispiace dicendovi che appunto sarà la mia ultima serie sul canale quella di playful bet ma d'altronde non posso campare con youtube e me lo sono sempre messo in testa quindi una fine dovrà arrivarci magari non chiuderò del tutto il canale ogni tanto farò qualche video così sfizio quando andrò a fare qualche viaggio eccetera e niente questo qui era tutto e noi ci possiamo vedere venerdì come detto prima qui un saluto da Alessio lasciatevi un commento di cosa ne pensate anche voi qua sotto ci vediamo bella ciao 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 ciao